Conto alla rovescia per l'apertura del nuovo Lungo Bisenzio. Domenica, a 56 mesi di distanza dall'ultima partita giocata allo stadio di Prato, la squadra torna a casa e tornano a casa i tifosi. Nuovo lo stadio, nuova la società, oggi guidata da Stefano Commeni, nuovo il campionato che oggi però è quello dei dilettanti. Si preannuncia una domenica di festa, anche se il ritorno al Lungo Bisenzio, dopo quattro campionati giocati a girovagare tra Pontedera, Montemurlo e Sesto Fiorentino, coincide con la difficilissima partita contro la capolista Rimini. Vogliamo fare bella figura e fare contenti i nostri tifosi. Vi auguro ci sia una bella cornice di pubblico, come è giusto che ci sia in un avvenimento del genere. Mister, ma nel calcio che cosa significa giocare tra le mura di casa? Ma è sicuramente un ambiente ideale per una squadra di calcio che gioca di fronte al proprio pubblico e ovviamente il giocatore sempre qualcosa di più riesce a dare. Poi dopo tanto tempo, insomma, io penso che anche la tifoseria ci darà una grossa spinta in una partita difficile come quella di domenica. Alvia oggi la vendita dei biglietti per i tifosi del Prato. L'ingresso allo stadio costerà solo un euro, una spinta a ricompattarsi intorno alla maglia bianca azzurra. 800 al massimo i tifosi del Prato spostati alle spalle della porta più vicina al cancello lato stazione. 300 al massimo quelli del Rimini con lo spazio per la tifoseria ospite spostato sul lato ferrovia accanto all'altra porta. Sono 1.100 su 2.200 disponibili i posti che possono essere occupati sulla base delle norme anti-covid. La tribuna d'onore è in fase di ristrutturazione e quando sarà pronta la capienza salirà a 2.500 spettatori. Da domenica e fino alla fine dei lavori le autorità, i dirigenti delle società e i giornalisti siederanno in tribuna a Sima in quella mobile che è posizionata sul lato di via Firenze e il cui allestimento è agli sgoccioli.